Buonasera, oggi vado a insegnare come preparare hummus. Prima vediamo come sono gli ingredienti. Se ci cote circa 400 grammi, due cucchiai di tahin, un spicchio di aglia, un terzo di un cucchiaio di sale, un mezzo cucchiaio di comino macinato, il succo di mezzo limone, un po' di paprika, brezzemolo, un filo di olio di oliva extra virgine e un mezzo di tazza di acqua. Per iniziare laviamo bene il sesamo, dopo mettere in una padella a fuoco medio alto. E poi si viene il sessamo per marrone gratu. Allora, per la salsa di tahin aggiungere due cucchiai di olio di oliva in un nichilatore, e dopo aggiungere un po' di sale. Aggiungere il ceci in il filoatore con un po' di acqua. E una volta che il sesamo è rosolato, lasciate raffredare. Il passo successivo, spremere mezzo limone. Tagliare un spicchio di aglio in prezzi piccoli. Tritiamo il prezzemolo e aggiungere il frullatore. Condire con la sale, la paprika, il cumino e la macinata. Mescolare tutto bene e dopo aggiungere. Mescolare tutto bene e dopo aggiungere il frullatore. il limone quando il sessamo iniziamo a preparare la salsa tajina aggiungi l'acqua quando la salsa è pronta aggiungi tutto nel soldatore ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.